Una soluzione, due condanne e quattro non luogo a procedere per prescrizione. Si chiude così il lungo processo di primo grado scaturito dall'inchiesta Camelot su presunti brogli nella gestione tra il 2011 e il 2012 di alcune opere pubbliche a Sant'Agata Militello. Il Collegio del Tribunale di Patti, Presidente Sanperi, a Latere Zantedeschi e la Spada nella serata di ieri, dopo circa due ore di Camera di Consiglio, ha pronunciato la sentenza. Assolto per non aver commesso il fatto il sindaco Bruno Mancuso per il reato di associazione a delinquere. Per il quale la pubblica accusa aveva chiesto tre anni di carcere. A fronte invece di una richiesta di cinque anni e quattro mesi, i giudici hanno condannato a quattro anni l'ex responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Giuseppe Contiguglia. Il professionista è stato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni con l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per la durata della pena principale per il reato di associazione a delinquere. Al tecnico è stato contestato il ruolo di organizzatore, mentre è stato decretato il non luogo a procedere per l'ipotesi di falso per intervenuta prescrizione. L'ex dirigente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno nei confronti del comune di Sant'Agata di Militello, da liquidarsi in separata sede e al rimborso delle spese di giudizio. Condannato a due anni anche Francesco Spitaleri per il reato di calunnia e al risarcimento del danno nei confronti dei tecnici Antonino e Filippo Floramo e Giovanni Fiammingo, parti civili costituite e al rimborso delle spese di giudizio. Dichiarato il non doversi procedere invece per Antonino Naso, Carmelo Gambadauro, Calogero Silla e Grazia Meli Bertolone per i reati di falso e associazione, quali partecipi per intervenuta prescrizione. All'udienza di ieri nella sua requisitoria per i capi d'accusa ancora in piedi, il PM Alessandro Lia aveva chiesto la condanna a tre anni di reclusione per i funzionari comunali Calogero Silla e Carmelo Gambadauro, due anni per l'ex dipendente Maria Grazia Meli Bertolone, un anno e quattro mesi per Francesco Spitaleri e un anno per il funzionario Antonino Naso.